musica 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 e bella a tutti ragazzi benvenuti qui sul mio canale sono Alika97 e sono quest'oggi ancora in compagnia la rivincita la rivincita con le gramelle rischia il gusto ancora un'altra volta signori quindi come sempre per chi non avesse per chi per chi non avesse visto il primo video abbiamo fatto io real e lui barcellona e praticamente ma al contrario per chi non ha visto la prima sfida andatelo a vedere mi raccomando ma soprattutto come sono le regole chi subisce gol dovrà mangiare una caramella il perdente ne dovrà mangiare invece 3 il primo tempo 0 0 2 a testa esatto del primo tempo 0 0 1 a testa ma così vai così vai così no 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 si cazzo non vuole subito così alla spagna ma non muovere da vedere per me per me ma lui e arbitro abilare la spalla spalla correttissimo attrazione attrazione e' vero no no bellissima copertura di baioli io ho sbagliato tantissimo e' qui ho sbagliato pure io fortunatamente pure te ho sbagliato ho sbagliato riluato sono stato benissimo ho sbagliato pure io perchè non la devo passare mamma mia voglio far merda ma io pensavo che era fuori gioco no no merda cazzo montano allevano da lì che caccio da angolo oh metti signori dai dai c'è la sedia reale signori però no ma che se c'è ma che fa se la guarda è davvero capito la guarda passiamo attimino cazzo fai tranquillo ieri 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 che cazzo canti modemaglia caramella canta se vuoi due uomini oh no se direi fai leo . questo modo del mio come l'ha fatto un cazzo perchè ripropa guarda che passaggetti credi guardate che cattivo effettivamente ti mandavo al pronto soccorso per chiesto lancio a cap io ti faccio sti corbastano tutti i mali grazie ma se chiede le palle no no non così però che però attenzione caccio calcio a due può essere calcio calcio occhio vai no non è possibile regalo ma io non sento mi sono sentito mi sono sentito la caramella proprio po' poter da la caramella che mi arrivava regalo ecco regalo regalo è l'assedio regalo barcellona non è che fa scrivere più perciò 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 no ma la mia partita dominavo io questa ma ho dominato io l'ho andata e che non confidi non solo si cazzo si cazzo si cazzo marzo si cazzo ma non è la cosa la rossa trova il posto e merda a e barone forza non è possibile probabilmente il programma per favore per favore la domanda per favore per favore per favore non non no 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 per favore non ma per favore per favore per favore no, è un po' di essere merda e' in voglia la roma con questo reti e se sei mai fai di su mano spaccoglione mette la mele che soppicciano i denti e quindi fanno stico sempre capito preso palla piena cross no per qui stavo soprando i limiti del gelana no e farda di cassate su non so che punizioni cristiano e un istituto batte dalle dobbiamo essere sinceri sono forte a battere punizioni quando lo mangia daire le punizioni scuola l'argomento il suo ferro per me la prima volta due su due buoni però per gusto se perdono le mani a 3 non fa un culo probabilmente sicuramente perchè non è che il tuo pacchetto non è vero arbitro ma stai scherzando questo è il risultato oltre 2 0 lo sto asfaltando ragazzi lo sto a distrugge l'idevato e perchè arrabbiato dell'andata ragazzi credo vaffanculo vengono stato per canale quindi anche se perde la male dei mangi se sicuro sei mani devo questo in senso ma ora ribalteremo signori anzi datemi voi perchè cambia del campo quindi datemi la forza signori per ribaltare datemi la forza per ribaltare questo match ragazzoni tanti pollicioni su adesso stoppate un attimo il video pausa e andare a mettere un like piala 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 vai nei o nei i nei i big mei proprio i big mei proprio i big mei vai nei non metta in culo non lo faccio farlo no c'è mai rotto nema so contentissimo ma che spacco la vagina ma che ho cosa ho a caso un raffio faiuva cantato due ramelle dei mangiati erano buoni ma ti dice ci sta sfidando signori no sbagliato sbagliato tasto valeo il primo marotto ballo stessi su le so le faccio eh fuori gioco di merda eh la fuori gioco la fuori gioco la fuori gioco lo sapevo negando il caffantino porto c'è una bippa come si allunga Danny questa è buona ma che buona affanculo è buona eh che non lo sapevo iniesta 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 ancora lui iniesta palla per Suarez e però quello morde io gli spacchi i cavi e mi pare giusto intanto cominciamo a vedere le caramelle che mi posso mangiare per la sconfitta ragazzi guarda questa cosa io te lo dico oh marcellino bello marcello si vabbè però regà che uno due non ma lui ti prego io faccio la popopo schifo regà capito perchè non ho perso però io prima stava attaccare comunque più di te ma porca di una puttana cosa stanno giardina le mie tre caramelle della sconfitta si avvicina morto 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 non però lo via palla giuro non so con il fame gioco si riesce a giocare no no mi ammazzo pure la gente non lo via palla giuro mi palla mi palla mi palla mi palla mi palla no 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 rossa penso di merda l'ultima no è l'ultima ma la mano ma la mano questo po bastionis rilassi alla brutta lente ma la gente gioca gioca ma ragazzo ma e andiamo almeno posso prenderla a me la soddisfazione per ottenere abbiamo fatto una stifosa io 2 due chi faccio che cazzo fai? non ho cliccato niente vai luis eh però eh però attenzione però queste cose che fai eh mi raccomando perchè potrei farmi eh ma dai ma era mia era mia mannaggia li capronne li capronne di porcello vediamo 5 minuti no vabbè dai non mi segna la chiesa che mi trova disegna la domanda destra ma non è vero signor io me ne mangerò mai 3 perchè se c'è la il gol ieri no 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 è possibile vai arancione no e gioca 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 ma questa mignotta è schifato prego questa regatta non è mazzurro è tipo per cani si ok ma ancora 100 secondi alla fine a stanza però non fa rica in caso di pareggio la partita finisce in un pareggio no no c'è stato vincitore perchè l'altra faremmo il mio figlio direttamente non so no per me lo fanno appare la partita dominata si spera adesso no perchè mi manca pagherò una regata nel blocco poi no questa raccoglie ce n'è possibile che faccio dopo cosa facciamo ricordi direttamente ragazzi no rega non è possibile vai ma porca mia sono capace di ericori non so capace si cazzo no no la parte eccezionale non è più forte e fatta cazzo non so buono che ericori no 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 ками immaginavo se siete anni chi ripassata roma la moglie se lo bette caramelle quali non ho mai fatto uno dei voti di un paese mangiare ma non è che mangiare dove cazzo potete 3 6 e 1 7 sono un autore sfide quindi ora mangio 3 ma te che mangiare 3 ma fa una bella rossa si cazzo poi cazzo di salta si 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 arancione e me rotto il cazzo io mangio quella verde faccio compagnia è menta è mela è mela guarda il cibo è il cane in bocca mo famo due te e una io ho visto che il canale è tuo vai due io e una lui non fa così che se una rossa non so però no arancione sento arancione fragola adepinante arancione vuole fragola non so arancione arancione per esempio a te qua la quante bello del suo mandato non dire che la canale bella rica istandini cantare in teo per la chiesa ma per tutti i video che abbiamo fatto insieme sembrano fate che la televisione pagina facebook e fan gaming ringrazio matteo come sempre vediamo speriamo che questo questi generi di video vi possono piacere bella rio vediamo un altro video ciao